ronin 93 ronin è stato un necromante praticamente cioè tu mi vuoi dire che praticamente oda mi prenderebbe in giro con le sue dichiarazioni ti fa ridere e mi sfidi sul tuo canalino di pattern la teoria 13 su 12 tu 000 su 50.000 io profeta tu bibbia ti ricordo che il profeta le parole profeta sono sulla bibbia quindi tu sei gerarchicamente inferiore a me ma spieghiamo a chi entra su questo video che cosa è successo ronin 93 mi ha lanciato una tema una sfida invitandomi venerdì 7 maggio alle 21 e 30 sul suo canale non ho capito se twitch o youtube ce lo scriverà immagino qui sotto nei commenti per parlare di alcune dichiarazioni che oda avrebbe fatto e che mi smentirebbero ma io credevo che ronin fosse la bibbia di one piece c'è quello che sta tutti i nomignoli inutili no tutte le cosette no rolin è il necromante di one piece e perché rolin è il necromante di one piece perché prende le dichiarazioni di oda un morto e le usa per parlare di one piece quindi necromante uno che parla con i morti un necromante o da detto da detto o del morto lo sappiamo tutti ma andiamo a vedere un attimo che cosa avrebbe detto oda contro il suo profeta il grandissimo del livello ha detto nessuno nessuno deve prendere in giro zoro nessuno prende in giro zoro e oda che lo prende in giro quando lo mette a testa in giù dentro un cammino quando lo fa scivolare sull'olio e oda che lo prende in giro non 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 mio io sono solo il profeta io parlo non come un necromante con oda io parlo perché oda mi trasmette le informazioni perché io possa capire il manga e quando lui mette zoro ridicolmente dentro un cammino non si riesce a liberarsi ora sapete a me che dice ma dice delle guarda quella scena quella scena che cosa ti dice perché oda dio no dio non ti dà la soluzione ti mette sulla strada per la soluzione io dico da bella oda maestro sensei è messo dentro un cammino e non si riesce a liberare fin quando ciò per non riportare spade deduco che lo volevi prendere il culo lo vado a fa e luce sia poi l'olio ne prende un'altra dichiarazione dice più prenderete in giro zoro più diventerà forte quindi praticamente più prenderemo in giro zoro più diventerà forte peccato che zoro non prende in giro nessuno zoro è il secondo più amato nelle classifiche internazionali di one piece e se il buono da rendesse più forti i personaggi che vengono presi in giro ora ciò per sarebbe imperatore astag ciò per imperatore già che ti piacciono gli astagini quindi io domani venerdì 7 sarò ospite da rovin per affrontare tutte le dichiarazioni che vorrà tirar fuori di oda e lo delizzerò lui ha provato a demnizzarmi ma io lo delizzerò invece questa sera per i più curiosi sarò ospite di arena flame forum vi lascio il link sia al canale youtube di rovin che al canale youtube di arena flame forum perché sarò il cringe west del di cringe factor un format dove sei concorrenti si dovranno sfidare cercando di non ridere in 56 man molto particolari quindi questa sera sono ospite su arena domani varoni nel sabato parliamo del capitolo perché se gli spoiler di sport sono veri incredibile incredibile simbolo messianico in questo capitolo va bene ci vediamo quindi nei posti che ci siamo detti se non vi va di perdervi nulla perché avete paura di dimenticarvene vi suggerisco o di iscrivervi al canale telegram di redazione sottocultura oppure al canale i profeti di one piece su telegram dove parliamo spessissimo anche in chat vocale con gli utenti di one piece e sabato sarete ovviamente coinvolti e non vi dimenticate mai che 15 maggio ci sarà la live su shanks il vero cattivo di one piece un saluto a tutti voi e alla prossima a domani e stasera